prendere chi mi ha stata presente mi tenga la psicologia e teni questa cosa in capo e non me l'hai mai lì e tu tanti anni che sei maurita non te ne sei mai accorto? no Gesso e quello stava dentro come me ne accorto? e che riesci qua? non l'ho mai visto, ti giuro Pasqua però tu mi vorrei te mordire, ci sono una moglie no me lo doveva dire per la mordire ma perché è un obbligatorio che ti aveva visto ma si capisce Pasqua che i cani sono una disgrazia a chi o l'altro? ma tu eri un colosso in casa e ne eri di dago da generale no Pasquale questa è una cosa che mi spazio e io me la prendo no me me la prendo Pasquale va bene te la prendo ma devi sapere prima che cosa è la psicologia esatto ecco qua per esempio Giovannino sta parlando che vuole dire una cosa si io sono Gerimbert non devo farci parlare che ha l'arico prima che ha l'arico è chiaro la indovina e la dico prima che lui la dice e io e allora a me mi serve? è Davide e come che mi serve? me la prendo Pasqua me la prendo ma vuole bene la psicologia è mia e me la prendo se la prendo basta capire eh bravo bravo allora guardami Pasqua si ma Pasqua non mi fa l'arico un momento adesso voglio capire bene questa cosa che tu tieni in capa e quando vieni le cose dopo che uno la rica eh no che sei importato come è? e te vede che mi fa parlare oi hai manco rotto un'altra volta che la età così la voglio bene ancora cari bello però non me la posso sposare con mezzo di chiacchiere che fanno la gente in tuo paese ma Pasqua ma quando mai? Pasqua tu non è capito non Po mezzo 中 чего senza capito senza capito è giù a B